Abbiamo ricordato, mentre ritorniamo in diretta all'inizio della nostra puntata, l'importante giornata mondiale che oggi ricordiamo, appunto, la giornata mondiale del rifugiato. E noi vogliamo parlare di questa tematica e delle tematiche connesse alla giornata mondiale con Alessandra Morelli, che per più di 30 anni è stata funzionaria dell'UNHCR, l'Agenzia ONU per i Rifugiati e che da questo punto di vista, potremmo dire, è un'istituzione. Buongiorno Alessandra, bentrovata e grazie di essere con noi. Grazie di cuore, buongiorno a tutti voi. Allora Alessandra, io vorrei partire dal rapporto Global Trends, che è stato presentato davvero da poco, che presenta un rapporto ovviamente che riguarda i rifugiati, le principali tendenze statistiche, e gli ultimi dati delle migrazioni forzate nel mondo. Ti chiederei di farci allora un quadro d'insieme per, appunto, spiegare ai nostri telespettatori quali sono i dati e le situazioni che bisogna attenzionare. Sì, grazie mille. Oggi effettivamente il mondo celebra, ma soprattutto si sofferma a riflettere, a riflettere come stiamo facendo noi su un mondo che vive ancora un forte disequilibrio e che non riesce a trovare la via della pace. Penso sia questo un po' la chiave d'entrata per comprendere le cifre che andremo a condividere, sapendo che dietro ogni cifra, ogni numero, c'è una vita spezzata, un sogno spezzato, perché questo, e lo andremo a approfondire, la guerra fa, purtroppo. Il Global Trends è effettivamente il principale rapporto annuale delle Nazioni Unite e dell'Alto Commissariato per i rifugiati, da cui poi tutte le analisi sulle statistiche di movimenti forzati nascono. Possiamo dire che la fine del 2002-2022 si conclude veramente con 108.4 milioni di persone sfollate, ma l'ONU ha voluto aggiungere i primi mesi del 2023 proprio per rafforzare questa crisi globale, inserendo la crisi sudanese e aggiornando fino all'ultimo giorno la crisi ucraina. Quindi possiamo parlare davvero di 110 milioni di persone sradicate. E questo è gravissimo, è il numero più alto dalla Seconda Guerra Mondiale. Se pensiamo che in questo numero 62.5 milioni sono sfollati all'interno del proprio paese, quindi non hanno attraversato una frontiera internazionale, e che cercano riparo in un paese che riparo glielo può dare poco, perché in guerra questo ci fa capire che la maggior parte delle persone non attraversano una frontiera internazionale, ma cercano di rimanere radicate nella difficoltà e nel pericolo all'interno del proprio paese. Questo per sfatare anche un po' questo mito delle invasioni. è molto importante tenere la temperatura e comprenderla per quanto riguarda veramente il profilo degli sfollati interni. Il 52%, questo è anche importante dirlo, di tutti gli sfollati, sia chi attraversa una frontiera internazionale che chi resta all'interno del proprio paese, provengono principalmente da tre paesi, che sono la Siria con 6,5 milioni di sradicati, l'Ucraina con 5,7 milioni di sradicati e l'Afghanistan, il dimenticato Afghanistan, con 5,7 milioni. Siria, 12 anni di conflitto, non si trova la via della pace, l'Afghanistan che ritorna come il gioco dell'oca al punto di partenza con i talibani che portano avanti una politica, come sapete, discriminatoria verso i più marginalizzati, ma soprattutto verso le donne che non hanno ancora ottenuto il diritto al lavoro e all'educazione. Una lettura del mondo, quella del global trends, ma quella che facciamo anche noi attivisti, pacifisti, credenti, è quella della lettura del mondo attraverso i diritti disattesi. Penso che sia questo un po' quello che ci portiamo a casa, un mondo ancora che cerca la via della pace. Le guerre sono sempre più protratte. Trent'anni il corno d'Africa, vent'anni il Sahel, 12 anni, 13 anni la Siria, lo Yemen completamente dimenticato. E non è vero che le guerre lontano da noi non hanno un impatto. Ce l'hanno anche a casa nostra, perché come dice Papa Francesco, siamo tutti parte della stessa umanità, nella Fratelli Tutti. Hai citato dei numeri impressionanti, Alessandra. Io vorrei focalizzare un attimo l'attenzione sulla guerra a pochi chilometri da noi, perché l'Ucraina a un'ora e mezza di volo da Ciampino o da Fiumicino, insomma, è una guerra davvero alle porte di casa. Anche perché questa guerra è stata il, potremmo dire, il motore degli esodi forzati nello scorso anno, nel 2022. Pensate, citando il rapporto Global Trends, il numero di rifugiati dall'Ucraina è salito da 27.300 del 31 dicembre 2021 a 5,7 milioni alla fine del 2022, dunque dello scorso anno. Con una guerra che stiamo vedendo, purtroppo sembra essere destinata a protrarsi ancora per tanto tempo. Quello che voglio chiederti, allora, visti anche questi numeri, parliamo di coloro i quali sono rimasti in patria, delle persone che non l'hanno abbandonata l'Ucraina. Come la stanno vivendo questa situazione? Sì, infatti no, ringrazio molto, ringrazio che dedichiamo del tempo su chi rimane e che non ha oltrepassato una frontiera internazionale, perché non ce la fa, perché vive troppo lontano, perché è handicapato, perché è una persona sola. Sono tanti motivi per cui una persona non ce la fa ad attraversare la frontiera internazionale. Vivere all'interno di un paese in conflitto, io ho avuto questa esperienza, gestendo molte volte paesi in conflitto, quindi occupandomi degli sfollati interni, è veramente vivere nell'incertezza quotidianamente, e vivere nella paura e trovare modi di muoversi costantemente allontanandosi dalle linee di fuoco e molte volte aver perso la propria casa perché è colpita, bombardata, anche perché le guerre oggi, se le analizziamo, notiamo veramente come si sta spostando con un'arma facilità e indifferenza a colpire i civili. Le vittime sono, i civili sono le vittime primarie di queste guerre che non si combattono più fronte su fronte, ma si combattono nei quartieri, si combattono nelle strade e questa è un'evoluzione estremamente preoccupante. L'incertezza, l'impatto ambientale anche ha uno stravolgimento sulla vita quotidiana di chi rimane, il rischio del nucleare in Ucraina è quotidiano, quindi vivi con questa cappa addosso. I pesanti bombardamenti, il movimento di truppe e carri armatiche sono rumori purtroppo quotidiane per moltissime, quindi inquinano anche l'aria, la terra, oltre che a uccidere i civili innocenti, come ho detto, che non c'è più cura in questo senso qua. Quindi ricordiamoci che le 14 centrali nucleali si trovano nelle zone di conflitto, questo è un elemento di grandissima preoccupazione. Chi rimane vive traumi importanti che troveranno veramente molto lentamente la via della guarigione, traumi dovute a morte dei vicini, morte di amici, morte di familiari, non sapere dove si trovano, non avere facilità e accesso ai beni di prima necessità. Ecco, l'unica certezza per queste persone è l'incertezza e vivere nell'incertezza non è la vocazione dell'umano, né è stata la vocazione creatrice di Dio che aspirava a tutt'altra convivenza. Senti Alessandra, il tempo purtroppo corre. Io ti chiederei una battuta davvero veloce su quello che sta succedendo in Africa perché nei giorni scorsi abbiamo ascoltato dalle cronache che in Uganda occidentale c'è stato un attacco terroristico che ha provocato la morte di 41 ragazzi e un attacco che ha coinvolto una scuola purtroppo. Oggi purtroppo il mondo sembra aver dimenticato ma anche noi commentatori faccio una forte autocritica riguardo a quello che è il fenomeno terribile del fondamentalismo islamico, del terrorismo islamico che è presente, è presente e continua a mietere vittime. Queste 41 vittime, ecco, ne sono la testimonianza. Ti chiederei un brevissimo commento al riguardo. Un breve commento al riguardo è proprio questo. Sì, ci dimentichiamo di queste tragedie barbariche e stiamo toccando una problematica importante che è l'espansione del jihadismo violento in Africa. Lo vediamo nel Corno d'Africa con gli Al-Shabaab, lo vediamo tra il Congo, l'Uganda, la Tanzania, con questi gruppi appunto delle forze armate democratiche, lo vediamo nel Sahel, tra il Burkina Faso, il Mali e il Niger. Sono attacchi violenti che colpiscono principalmente i civili proprio per destabilizzare i punti di riferimento e destabilizzando i punti di riferimento, incendiando i propri villaggi, annullando la quotidianità e il sogno della propria vita, la gente si mette in cammino e fugge e diventa sfollati interni. Ogni sfollato interno ha la possibilità di attraversare la frontiera e quindi di diventare anche rifugiato. Non dimentichiamoci che il jihadismo in Africa è violento ed è una delle principali cause dei movimenti forzati. Bisogna sempre analizzare a monte ciò che succede per capire cosa ci arriva a valle. L'ultima domanda, Alessandra, ed è relativa alla tua ultima fatica editoriale. Mani che proteggono, un titolo di un libro davvero molto interessante, Storie di 30 anni. Io l'ho detto presentandoti in prima linea perché tu sei stata davvero al fronte, potremmo dire così, tra emergenze, in zone di conflitto ad alto rischio, in dialogo con i governi, con le milizie, con la Nato, con organizzazioni non governative. Insomma, un'esperienza, permettimi, incredibile, che davvero tanti di noi vorrebbero fare. Qual è il ricordo più bello, quello più emozionante? I ricordi sono tanti in questo libro e cerco di fare catarsi io stessa, di comprendere cosa ho vissuto con la mia fisicità nei conflitti, ma i ricordi più belli sono tanti, ma sono quelli in cui con i miei colleghi, con i partner, siamo riusciti a creare spazi di dignità e di umanizzazione nei conflitti. Il ricordo più bello è vedere una mamma che si riunisce alla propria famiglia o ai propri figli. Il ricordo più bello è ricevere oggi tantissime note di tantissimi rifugiati che si trovano in luoghi sicuri e stanno ripartendo con il soffio della vita e della speranza e dei sogni. Il ricordo più bello è aver garantito dignità e vita a tante persone. Alessandra, io ti ringrazio di cuore per essere stata con noi. Purtroppo il tempo è tiranno e mi sarebbe piaciuto davvero parlare ancora tanto perché ce ne sono tante di situazioni in giro per il mondo che andrebbero approfondite. Noi ci siamo limitati questa mattina a dare delle pennellate, ma speriamo nel futuro di poter parlare in maniera più approfondita davvero delle tante situazioni che ci sono in giro per il mondo. Grazie di cuore, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi per questa riflessione che abbiamo fatto insieme. Un saluto cordiale di pace e bene a tutti i telespettatori. Grazie mille. Grazie, grazie ancora ad Alessandra Morelli. Noi ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme.